Il consigliere regionale PD Sandro Mariani risponde alle critiche di 5 Stelle sul progetto di legge approdato in quinta commissione relativo all'istituzione delle città abruzzesi della cultura. I pentastellati infatti accusano i firmatari di voler finanziare il progetto attraverso l'aumento del bollo auto. Mariani però smettisce la notizia e replica. Sì, oggi in commissione è accaduto quello che ho annunciato ieri che praticamente non ci sarà nessun aumento del bollo auto ma semplicemente oggi era la legge approdata e approdata in quinta commissione e di conseguenza dobbiamo discutere del merito della legge. La parte finanziaria verrà discussa in prima, comunque è stata rinviata perché ci saranno degli approfondimenti e comunque serviva semplicemente per dare l'inizio all'iter di discussione della legge. Quindi rasseneriamo tutti sul fatto che non ci sarà nessun aumento del bollo e troveremo altre entrate e se non ci dovesse essere questa possibilità di individuare altre entrate la legge verrà ritirata.